La Procura di Roma ha chiesto rinvio giudizio per tre poliziotti coinvolti nella vicenda di Assi Bomerovic, l'uomo precipitato dalla finestra dell'abitazione dove viveva nel quartiere Primavalle, durante un'attività di controllo da parte degli agenti rimanendo gravemente ferito. Nei confronti dei tre, i PM di Piazzale Clodio contestano, a seconda delle posizioni, reati di falso e tortura. Quello che è accaduto il 25 luglio del 2022 è quella azione di polizia che ricorda piuttosto una spedizione punitiva ed è scritta negli atti con cui il pubblico ministero, Stefano Luciani, ha chiesto rinvio giudizio nei confronti dei tre agenti, mentre la posizione del quarto, il poliziotto che ha deciso di raccontare la verità, è stata stralciata. In quelle carte è raccontato ogni momento, ogni fatto avvenuto in via Gerolamo-Aleandro, tra i lotti popolari della periferia di Primavalle. L'unica testimone oculare dei fatti è la sorella della vittima, una ragazza affetta da patologie per le quali le è stata riconosciuta l'invalidità civile totale come scritto nel decreto di chiusura delle indagini.